Domanda reale arrivata ieri durante un workshop. Silvia, tu che hai studiato per tanti anni la psicologia dello sviluppo, la mente dei bambini, l'educazione, che hai lavorato nei nidi, nelle scuole di infanzia, dici un segreto, ma qual è l'educazione migliore? Qual è l'educazione migliore? Ho selezionato tre caratteristiche che secondo me sono molto importanti e te le dico tra poco nel video o nel podcast del lunedì. Cominciamo! Ciao, sono Silvia Spinelli, in questi video e in questi podcast ti aiuto a tradurre la psicologia in suggerimenti semplici e operativi e quindi segui il mio profilo per aiutarmi a crescere e a diffondere delle buone pratiche educative. Mi raccomando! Torniamo al nostro argomento. Mi è stata fatta una domanda impegnativa. Come si fa a dire un'educazione migliore, quella più severa, quella più autoritaria, quella più libertina? Qual è l'educazione migliore? Ho selezionato tre caratteristiche molto importanti che, a mio avviso e per la mia esperienza, l'educazione deve avere per essere la migliore. Non faccio le virgolette con le dita perché è un gesto che mi fastidisce, però mettete migliore mentalmente tra virgolette. La prima cosa che deve avere l'educazione per essere la migliore è essere realistica e basata sull'osservazione del vostro bambino o della vostra bambina. Cioè, l'educazione non deve essere una cosa solo teorica e solo astratta, perché io in astratto posso dire che per me è molto importante cenare tutti quanti insieme, seduti al tavolo o per tutta la durata della cena. Poi posso avere un bambino, penso ai miei due figli, più predisposto a mangiare, a stare seduto anche per ore a chiacchierare, per cui quella richiesta non è una richiesta così difficile e impegnativa. e posso avere un altro bambino, come il mio secondo figlio, che è molto meno interessato a mangiare, è molto più movimentoso e ha bisogno di più di muovere il corpo, per cui, per esempio, la richiesta di stare seduto a lungo a tavola può essere una richiesta faticosa. Quindi, io non posso definire sempre tutto a priori, al di là di salute o sicurezza, logicamente. Non posso dire che è giusto che si faccia sempre così, ma l'educazione migliore è quella che tiene conto del temperamento del mio bambino, dei suoi talenti, delle sue difficoltà, delle cose che gli vengono facili, delle cose che gli vengono difficili, ed è tarata su quello che lui o lei sa già fare e cos'è che devo fare allora? Cercare di fargli una richiesta nella zona di sviluppo prossimale, sapete, ne abbiamo già parlato più volte, andate a vedere il video se non l'avete ancora visto. Quindi, osservo chi è il mio bambino e la mia bambina, cioè non parto a priori con l'idea di devo fare assolutamente così perché è giusto così in astratto, perché sapete, i libri raccontano teorie, ma le persone e gli esseri umani sono infinitamente più complessi e più affascinanti e multiformi di così. Quindi, numero uno, l'educazione migliore è quella realistica in base al tuo bambino, non quella astratta che ti metti in testa perché hai letto, sentito delle cose. Basati, osserva, guarda, molto importante. Secondo suggerimento, l'educazione migliore è quella nella quale tu, tu, proprio tu genitore, ti sei confrontata e ti sei vista o visto le cose relative alla tua infanzia, alla tua educazione, perché devi sapere, è un argomento molto delicato, che tu risuonerai con i tuoi bambini su delle cose che derivano da come hai vissuto nella tua infanzia. Per esempio, i tuoi genitori si arrabbiavano molto con te ogni volta che ti arrabbiavi e quindi tu non sei stato abituato, non sei stata abituata ad esprimere la tua rabbia, la tua protesta, ma hai dovuto tenerla dentro di te? Faccio questo esempio perché nell'educazione di certi anni non si potevano tanto esprimere le emozioni. Non ti arrabbiare, non c'è niente da arrabbiarti, non piangere, no, non c'è niente da aver paura. Eravamo abituati a dover tenere dentro di noi soprattutto le emozioni negative. Cosa succede? Se non ti sei messa a posto questi pezzi, se non hai fatto pace con la bambina che sei stata, con lo stile educativo che hai vissuto, se non hai elaborato queste ferite, quando i tuoi bambini, come fanno i bambini di quest'epoca, manifesteranno in modo proprio sereno, perché loro non tengono dentro la rabbia, il disappunto, la protesta, la paura, il pianto, la lagna, eccetera, proverai disagio. È un disagio che si può manifestare sotto forma di rabbia, di nervosismo, di irritazione, che in realtà sotto la superficie ha sottesa l'emozione in realtà della paura, cioè la paura di non saper gestire una cosa. Ma certo che non la sai gestire perché non è stato fatto con te. È come dover insegnare qualcuno a sciare senza che tu sappia sciare. Quindi l'educazione migliore, secondo suggerimento che posso darti, è quella che tiene conto anche di te e che è in cui tu ti vedi e cerchi di approfondire quali sono state le tue mancanze, le tue ferite, cercando però di far pace con quei pezzi, non di prefissarti perché questo si collega al punto 1. Ah, io farò esattamente il contrario. No, perché così cadiamo nel punto 1, cioè mi metto in testa una cosa teorica e poi voglio fare per forza così. No, voglio vedere quelli che sono stati i miei traumi, le mie ferite, magari mi faccio aiutare se sono molti, e poi però lascio andare, li lascio andare nello sfondo e mi concentro sul vedere chi è veramente il mio bambino o la mia bambina. E qui veniamo al punto 3. L'educazione migliore, sempre tra virgolette, a mio avviso è quella autentica, è quella sincera. Cioè, alla fine, suggerimento che sembra il più banale del mondo, non mentite a voi stessi e ai vostri bambini, dite la verità e parlate con loro. Io sento spesso parlare con i bambini in forma sempre pedagogica, l'abbiamo anche già detto in un altro video, ma parlate anche con i vostri bambini in modo normale, a cuore aperto, parlate. Come ho scritto in un post, qual è la cosa difficile di questo? Che per poter parlare con i vostri bambini a cuore aperto, dovete poter prima parlare con voi stessi a cuore aperto. Siete sincere con voi, sapete quali sono i vostri sogni, i vostri desideri, i vostri punti deboli? Cioè, oggi ho fatto un video matriosca, nel senso che quest'ultimo punto si collega al secondo, cioè mettervi a posto delle vostre cose. Perché i bambini, ragazzi, hanno bisogno di una guida, ma hanno bisogno non solo che gli insegnate, naturalmente, quale è il giusto e quale è lo sbagliato, cosa che avviene per il 99,9% attraverso il vostro esempio, ma hanno bisogno di parlare con voi. Io sento chiedere ai bambini, per esempio, perché hai fatto così? Ma non sento mica ascoltare la risposta. Cioè, spesso è un perché retorico. Perché? È come dire, ti rendi conto? Poche volte, o meno volte, non è vero poche, dai Silvia, non essere pessimista. Poche volte sento chiedere, perché hai fatto così? Cioè, con l'intento di capire, perché a volte i bambini fanno delle cose perché non riescono ad autocontrollarsi, allora dobbiamo aiutarli più su quelle funzioni di freno. A volte, invece, i bambini fanno delle cose intenzionalmente perché si sentono feriti, perché si sentono offesi, perché si sentono esclusi, messi da parte, non preferiti. Cioè, se gli chiediamo davvero magari qualche perché, ovviamente quando sono in grado di risponderci, oppure se li osserviamo semplicemente per capire loro perché, riusciamo a comunicare con loro in modo più realistico. Cioè, anziché fare lo spiegone, che è il motivo per cui spesso queste conversazioni falliscono, queste conversazioni educative, perché non sono conversazioni, sono lezioni. Ma per fare una lezione, questo, spero sarete d'accordo con me, il primo presupposto è che l'alunno voglia ascoltare. Se noi facciamo una lezione da soli, sì, magari ci sfoghiamo in quel momento, ma non otteniamo un insegnamento. Quindi l'educazione migliore è quella in cui davvero siamo disponibili a parlare, ma anche ascoltare. Non vogliamo riempire il bambino mettendo dentro delle cose prefissate, torno all'uno, ho fatto una matriosca circolare oggi, ma in verità ascoltiamo anche da lui o da lei quali sono le sue esigenze, i suoi perché, i suoi motivi, e in modo autentico, senza mai mentire, perché su questo io, sì, magari mi direte che sono categorica, ma no, non si mente, non si mente ai bambini, non si mente a nessuno che amiamo e con cui vogliamo che la relazione sia profonda e di fiducia, altrimenti capite che salta proprio il presupposto generale. Quindi non c'è un'educazione migliore o peggiore sulla carta, quindi quella più autoritaria, quella più libertina, eccetera, ma ci sono tre caratteristiche che possono essere importanti per far sì che il vostro rapporto con i vostri figli crei una connessione profonda e duratura. Noi ci vediamo e ci ascoltiamo il prossimo lunedì, ma mi dite quale di questi tre punti è quello un po' più difficile per voi? A presto, ciao! Grazie a tutti!